ecco allora quando avevo 12 anni ho fatto questo una casetta piccola qua di Moraffecco perché quando pioveva mi metteva sotto qua non mi bagnava adesso è rimasto questo queste poco moretti che si vede qua che hanno caduto a terra però allora stava bene qua sopra quando pioveva mi riparava e questa tu avevi 12 è stato tu 13 anni allora qua sempre mi riparava all'epoca più di 50 anni fa e questo è tutto